Luba Pellegrini servendo Zaleschi che deve però per forza di cosa allontanare questo pallone molto alto, Ebram la spizzata verso Di Bala che si invola, poi Paolo sta per entrare in area Di Bala! Di Bala! Di Bala! Dabbi entra in area, vai Dabbi, 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 Galtirola, arriva Paolo, scelto Di Bala! Sotto l'arrivo di Di Bala, Proprio dice Rossari in mezzo, rinvio Di Bala alla limite, il tiro a giro! Mamma mia Paolo! Quindi viene la respirazione, questa dall'altra parte verso Di Bala, il volo, Danovi, se non ci arriva, go! Go! Paulino! 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 Di Bala! Di Bala! Di Bala! Siamo bene questa volta, palla profonda per Abram, può essere buona, in mezzo c'è di bala, Abram lo serve di bala, ancora Paolo! Paolo, va di bala, è il gol di Paolo! Ai 30 metri in avanti, bene per Escianaui, lato corto, entra in area Stefan, ancora per di bala E' il tiro! Sei uno spettacolo Paolo! Vai Paolo! Va di bala! Viva! Viva! La chiude Paolo! Viva! 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 Viva!